Andiamo al lago? Andiamo al lago? Ma certo, andiamo su quel ramo del lago di Como, con la precisione a Mandello dell'Ario. Paesino carino, bel verde, lidi gratuiti e sede della Moto Guzzi, nata qui nel 1921, con un bellissimo museo nello stabilimento e ingresso gratuito. Guarda questo visette anniversario. E la California dei Corazzieri? Eh? E questa mille le man? Guarda che bella, che bella. Ma il lago dov'è? Adesso andiamo, andiamo. Guarda la sala motori, con tutte le tecnologie Moto Guzzi e questo bellissimo motore sperimentale per il Fiat 500, unico e raro. Ma voglio fare il bagno. Sì, guarda, basta scendere 400 metri qui giù e il lago ti aspetta con i suoi bellissimi lidi. Vai, vai, vai. Ma non vieni? Adesso arriva, adesso arriva. Guarda questa Moto Guzzi da competizione, la 350, la V8, che bella storica. Anche quella della polizia stradale, quella del record. La Daytona, la Daytona, l'hai vista? Vieni! Va bene, va bene. Pazza, che freddo.